Buongiorno e bentrovati, nuovo appuntamento con In mattino 6, 9 settembre 2015, apriamo la nostra consueta rassegna stampa con il santo del giorno che viene ricordato dalla Chiesa Cattolica, si tratta di San Pietro Claver, sacerdote nato da Pietro e Anna Claver nel 1585 a Verdù in Spagna. Il nostro santo fin dai primi anni fu educato cristianamente. Nel 1616 a Cartagena ricevette l'ordinazione sacerdotale, di cui comincia la sua nuova vita feconda, d'apostolato e di abnegazione per le anime nel 1622. Pietro emise la professione religiosa solenne, aggiungendo la promessa di spendere tutta la sua vita a servizio degli schiavi. Lavorò tanto per essi, anche se non ebbe la corona del martirio cruento. Ebbe quella di un martirio diurno, martirio di preghiera, di lotta, di sacrifici e di un intenso apostolato, una vita di lavoro e di sacrifici. Qualche anno dopo, nella contagiosa pestilenza che poco dopo infierì in quelle regioni, Pietro mostrò la sua eroica carità ai piedi dei malati, prestava loro i più umili servizi e assieme al pane materiale dava loro il pane spirituale, il pane della fede cristiana. Finalmente la sua corona era pronta, dopo un'agonia di un giorno circontato dai suoi negri, il santo apostolo rendeva la bell'anima a Dio ed era l'8 settembre del 1654, 8 settembre, in cui la chiesa ricorda San Pietro Claver, santo spagnolo sacerdote della chiesa cattolica. Allora possiamo aprire la nostra consueta rassegna stampa come sempre con le prime pagine dei nostri quotidiani. Partiamo dal centro, andiamo a vedere le quattro edizioni del quotidiano d'Abruzzo, partendo dall'edizione di Pescara che ha come titolo principale una vicenda che riguarda la morte in ospedale di una paziente. Ci sono tre indagati, l'accusa ai medici, ignorate le analisi della paziente. Poi vedete la fotonotizia, perché quella di ieri è stata la giornata delle prove, dei test per l'ammissione alle facoltà di medicina, è stato così anche all'Università d'Annunzio di Chieti. E poi nelle cronache la scoperta, 2000 conigli morti da otto mesi in dei capannoni a congiunti di Colle Corvino, proprio in provincia di Pescara. E poi tortuga un fallimento senza debiti, Cristofanelli si difende, ieri gli interrogatori di alcuni degli indagati in questa vicenda. E poi la pista ciclabile sul fiume Pescara, piena di rifiuti. E poi un altro titolo che riguarda in questo caso la cronaca, preso lo scippatore Montesilvano, aveva rapinato una ragazza, arrestato, i carabinieri della compagnia di Montesilvano hanno arrestato questo giovane, tra l'altro rintracciato a Napoli dove si era rifugiato. E poi la rabbia dei passeggeri, il volo da tirana slitta, la partenza al giorno dopo. Lasciamo allora la prima pagina dell'edizione del centro, edizione di Pescara, andiamo a vedere, lo faremo come sempre tra qualche secondo, l'edizione di Chieti Lanciano Vasto del quotidiano d'Abruzzo. Poi passeremo ovviamente alla lettura delle pagine del messaggero, partiremo dai titoli e dalle pagine di cronaca nazionale, per poi nella seconda parte vedere insieme i titoli e le cronache regionali. Allora, edizione di Chieti del centro, case del sesso, 10 sospettati, San Salvo, spunta il favoreggiamento della prostituzione. E poi la fotonotizia che riguarda sempre gli aspiranti medici per i test che hanno sostenuto ieri all'Università d'Annunzio. E poi nelle cronache, in questo caso siamo a Chieti e in provincia di Chieti, i preti dicono sì all'accoglienza dei profughi dopo l'appello del Papa, allo scientifico Masci, allievi del liceo dirottati dal commerciale. E poi a Vasto uffici postali a orari ridotti in nove paesi. E poi una notizia che riguarda invece il Lanciano, perché ci sono problemi per l'adeguamento dell'impianto di gioco il Guido Biondi, la Virtus gioca a Bari, Lanciano l'annuncio di diversa, oggi decide la FIGICI, questione che dura da diverso tempo, vedremo cosa accadrà, ma sarebbe davvero clamoroso se Lanciano dovesse giocare la prima gara stagionale del campionato in campo neutro, addirittura a Bari a oltre 250 chilometri di distanza. Andiamo avanti, siamo alla prima pagina del centro, edizione di Teramo, anche in questo caso andiamo a vedere insieme quali sono i titoli di apertura del quotidiano. Il centro, nell'edizione Teramana, si parla di calcio, anche in questo caso ancora della vicenda della presunta Combin Savona-Teramo, Campitelli non credibile e le motivazioni della sentenza sono state depositate ieri, sentenza che è costata la Serie B alla formazione bianco-rossa. Poi la fotonotizia riguarda Roseto con Gio Squillo, questi ragazzi che conquistano il Kites Talent Show. E poi l'Università di Teramo studia la possibilità di un farmaco e tra l'altro si parla dell'olio, l'olio d'oliva contro il cancro. Nelle cronache, Fondazione Tercas corsa le nomine per l'elezione del nuovo presidente, poi a Roseto scuola schiazza, chiuse le aule che puzzano. A Tortoreto, lavori non finiti e la materna, scuola materna, apre in ritardo. A Tortoreto, un titolo che riguarda la cronaco, rubano stufe a pelle e forzano il posto di blocco. Questa notizia che arriva proprio dalla Val Vibrata, in particolare da Tortoreto. Noi chiudiamo la lettura dei quotidiani per quanto riguarda le prime pagine quotidiano Il Centro, in questo caso per quanto riguarda le quattro edizioni. Chiudiamo con l'edizione di L'Aquila Avezzano Surmona. Poi passeremo al messaggero, vi ricordo come sempre alle 7.20 il consueto appuntamento con il meteo. Siamo all'edizione dell'Aquila del Centro, droga nel bosco, due arresti, Valle Roveto, giovani bloccati con fertilizzanti e zappe. E poi nelle cronache, l'Aquila, inquinamento, condannato e arrestato. Di Nicola, sono un capro espiatorio, l'ex direttore sportivo dell'Aquila, tra l'altro ascoltato proprio dal nostro collega Andrea Costantini, l'altro ieri nel corso del TG6. E poi sul Monaco, un corso lirico, dimenticato dalla regione. Siamo alla cronaca, grave dopo lo scontro, l'Aquila, incidente nel giorno del suo compleanno e allarme nella marsica, caccia al finto finanziere che truffa i pensionati. Questi titoli della prima pagina edizione del Centro di L'Aquila Avezzano Surmona. Possiamo passare dunque al messaggero per andare a vedere insieme. Lo faremo tra qualche istante, i titoli della prima pagina del quotidiano romano, poi andremo a vedere anche i titoli delle pagine centrali. E poi nella seconda parte, come detto, saremo alle pagine della cronaca regionale. Prima pagina del messaggero. Migranti, costi via dal deficit, piano dell'Unione Europea, ogni paese potrà detrarre dal proprio bilancio le spese sostenute per l'accoglienza. Quote, ok, della commissione al testo Juncker. Merkel in Germania, 500 mila profughi l'anno. E poi istituti religiosi, evasione record, neimu, nettari. C'è quest'inchiesta del messaggero, il rapporto dell'Agenzia delle Entrate di Roma. Crediti difficili da recuperare. E poi si parla della rivoluzione del Papa, anche per quanto riguarda l'annullamento delle nozze da parte della Sacra Rota. Nozze nulle, processi brevi e gratis. E poi anche sul messaggero si parla di testa medicina, blitz e proteste. Il primato Elisabetta, la corona più lunga, sorpassata la regina Vittoria. La regina Elisabetta sta per diventare la sovrana che ha regnato più a lungo di tutti nel suo paese. Poi Scattone, insegnante per forza. Ricorderete Giovanni Scattone coinvolto nell'omicidio colposo di Marta Russo. Ci sono polemiche perché Scattone andrà a insegnare in una scuola di Roma. Dunque anche in questo caso ci sono state delle polemiche. Andiamo a vedere le pagine interne del messaggero. Pagina 2, migranti, passa il piano Juncker, taglio del deficit. A chi accoglie circolare del Viminale ai prefetti, trovare 20.000 posti. Gli Stati Uniti, valutiamo aiuti all'Unione Europea. In caso di emergenza, Berlino, ne prendiamo 500.000 all'anno. Orban accelera sul muro, più operai. Orban, il primo ministro ungherese, che vedete nella foto. Pagina 3, i trafficanti cambiano le rotte, crollano gli arrivi dei siriani. Il capo intercettato dei nostri ne stanno arrestando troppi. Meglio andare via terra sui barconi diretti in Italia. Meno donne e bambini, così è caos sulla via dei Balcani. E intanto per quanto riguarda proprio i profughi siriani, la Bulgaria nega lo spazio aereo a Mosca. Siamo a pagina 4, i muettari, istituti religiosi e boom di evasione fiscale. Ritroviamo l'articolo con il richiamo in prima pagina. Il rapporto dell'Agenzia delle Entrate di Roma. Crediti difficili da recuperare. I singoli contenziosi ultradecennali possono superare anche il milione di euro. Restiamo in argomento religioso, se così possiamo dire, perché quella di ieri è stata una giornata importante per le dichiarazioni di Papa Francesco. Nozze nulle, processi brevi e gratis. La Sacra Rota, la mossa del Papa dopo tre secoli. La Chiesa cambia il processo canonico. Cancellare le unioni costerà di meno. Le novità con argomenti evidenti basterà infatti una sola sentenza. Ci sarà soltanto un giudice. Poi deciderà il Vescovo. E poi ci sono le reazioni e anche quelle degli avvocati rotali che dicono vogliamo essere pagati per il nostro lavoro. E poi la scure sul business delle cause d'oro. Cresceranno i matrimoni bis in chiesa. Andiamo avanti. Pagina 6. Strasburgo. Sferza l'Italia. Dica sia le nozze gay. Unioni civili. Lite. Partito Democratico. Nuovo centro-destra. Richiesta del Parlamento europeo. rivolta a nove stati membri al Senato. Il testo a rilento. Duro ostruzionismo di Alfagnani. E Forza Italia. Vedete in questo grafico gli stati dove sono già autorizzati matrimoni gay e in altri stati invece così non è. Tra questi c'è anche l'Italia. vedete in questa cartina i paesi in grigio. Andiamo ancora avanti. No alla prescrizione sull'IVA. La Corte dell'Unione Europea richiama Roma la raccomandazione per le truffe gravi di sapplicare le norme e la riforma divide la maggioranza come le intercettazioni. Pagina 7. Senato. Il cuore della legge. Non si tocca. Siamo alla politica interna. Renzi ai ribelli del Partito Democratico. Decidiamo insieme alcune modifiche ma l'articolo 2 non cambia. Poi l'appello alla responsabilità. I bersagnani bene i toni ma si corregga la modalità di elezione. E si apre il fronte NCD. 15 senatori potrebbero votare contro. Dunque sulla riforma del Senato ancora polemiche e problemi in seno alla maggioranza di governo. E per il Premier treguarmata i suoi pronti alla conta in aula. E poi si parla in basso, a fondo pagina, del finanziamento pubblico. I partiti si fanno la sanatoria. Siamo a pagina 8. Decontribuzione per i neoassunti. Sgravi limitati. Soltanto al sud. Manovra da 25 miliardi. Troppo costosi. Gli incentivi a tutti. Tasse sulla casa e niente aumento. IVA. Le priorità del governo. E poi ci sono tagli in arrivo per Banca Italia. Chiuse 19 tesorerie dello Stato. L'accetta colpisce quasi tutte le regioni. Campania, Lombardia, Sicilia, Toscana e Lazio. Le più penalizzate. Poi si parla ancora di economia. Per quanto riguarda l'Italia. Crescita dell'Unione Europea oltre le stime. Per l'Italia più 0,3% nel secondo trimestre. Dopo tanti mesi. Finalmente il segno positivo. E siamo a pagina 9. del messaggero. Si parla di pensioni illegittimi. Tetti a quelle dei professionisti. Doppia sentenza di tarre e cassazione. Niente vincoli. Sull'importo degli assegni. Boeri, presidente dell'Inps. La mia proposta è equa. Taglio del 3% l'anno. Per lasciare in anticipo. E noi proseguiamo. Siamo a pagina 10. Ecco, ritroviamo anche in questo caso la notizia della prima pagina. Il record della regina Elisabetta alle 17.30. Il sorpasso sulla regina Vittoria. La monarchia più lunga nel giorno della festa. La rivelazione. Ucciso da un drone. Un jadaista. Che voleva attentare alla sovrana. Vedete nella foto Elisabetta II. Tra il marito Filippo. Ed il figlio Carlo. Dunque, questo pomeriggio. Ci sarà il record per quanto riguarda la regina Elisabetta. E poi la polemica. Il pressing degli ebrei romani su Israele. No alla Nairstein ambasciatrice. Si parla di un'altra vicenda. In questo caso, nell'incontro con il presidente Rivlin, la comunità italiana avrebbe chiesto di bloccare la nomina. La giornalista Fiamma Nairstein è stata nominata. È comunque indicata come ambasciatore di Israele in Italia. Ma ci sono delle polemiche. E come si vede in questo articolo, alcuni ebrei, soprattutto romani, non sono d'accordo su questa scelta. E poi la svolta di Serpico. A 79 anni il poliziotto eroe entra in politica. L'uomo che denunciò il marcio delle forze dell'ordine di New York ora si candida alle elezioni comunali. E siamo a pagina 11. Sgattone ora è di ruolo. Insegnante per forza Roma fu condannato per omicidio colposo nel caso del delitto di Marta Russo. La famiglia di lei non può educare lui, ma un altro lavoro non lo trovo. E vedete che, ovviamente, come si vede anche da questo articolo, ci sono delle polemiche per Scattone, che ora è diventato insegnante di ruolo. Vedete nella foto il professore romano. Poi si parla a Roma di un altro argomento, in questo caso a fondo pagina. Mafia Capitale, sorpresa Carminati, pronto a parlare davanti ai giudici. E dunque Carminati potrebbe rivelare cose interessanti su questa vicenda. E siamo a pagina 12. Blitz, proteste e calcetto. La carica dei 60.000 per un posto a medicina. Università, i test per assegnare i 9.513 posti. Anche il quiz su come si organizza un torneo. Studenti contro il numero chiuso. E intanto Lady Renzi, la moglie del Presidente del Consiglio, in fila per una cattedra. E poi Buona Scuola, no del Veneto, farà ricorso alla consulta. E noi siamo arrivati alle pagine dell'economia. La prima pagina, vedete il titolo, Bad Bank, la UE si mette di traverso, l'Unione Europea dunque non è d'accordo. La commissaria Vestager con l'Italia. Non siamo alla fase conclusiva. Sono importanti i dialoghi bilaterali con gli stati. E domani l'esponente danese verrà ascoltata alla Camera. Poi incontri con Guidi, Padoan ed il tandem, Visco, Panetta. In basso, concorrenza, giù i costi delle telefonate all'assistenza clienti. È stata istituita la carta dei servizi a tutela dei passeggeri di treni e autobus e più trasparenza per i rimborsi. Vedete nella foto il ministro Federica Guidi. Ancora avanti, i pagelle della Banca Centrale Europea ha intesa ai popolare Milano i voti più alti. In arrivo risultati preliminari, complessivi, le indicazioni di capitale italiane promosse. Dunque, voto positivo per le banche italiane. Questa è una bella notizia per il mondo economico del nostro Paese. Siamo arrivati poi alle pagine regionali del Messaggero. Andiamo a vedere in questo caso il centro, in questo caso le pagine di cronaca nazionale del Quotidiano d'Abruzzo. Lo faremo tra qualche istante come tra un paio di minuti apriremo la pagina del meteo con il nostro Giovanni De Palma per parlare di previsioni del tempo e per conoscere proprio le previsioni del tempo per le prossime ore. Pagina 2, Quotidiano il centro, Berlino apre i rifugiati, ok a 500 mila l'anno. Primi voli dei caccia francesi sulla Siria. Pagina 3, da Roma a Venezia i volontari al lavoro malgrado le ostilità. E poi in basso la rete cattolica della solidarietà ancora prima dell'invito del Papa tante le strutture adibite ad ospitare migranti. Anche in Abruzzo c'è la corsa per ospitare queste persone che stanno fuggendo in molti casi da Paesi in guerra. Pagina 4, Pensioni no dell'Inps al taglio del 30% e poi Senato nel Partito Democratico. Manca ancora l'accordo. Pagina 5, Unioni civili. L'Unione Europea in pressing sull'Italia. L'Assemblea di Strasburgo chiede tutele per le coppie omosessuali. Centro-destra in rivolta. Governo imbarazzato. Nullità dei matrimoni. Il Papa taglia i tempi per centrare il luoro del Vescovo. Procedure snelle. Un processo breve potrebbe concludersi in pochi mesi. Andiamo ancora avanti. Pagina 6, delitto Marta Russo. La madre, Scattone, non può insegnare anche sul centro. C'è la polemica per Giovanni Scattone che ha scontato però la pena per l'omicidio di Marta Russo. Sarà docente di psicologia in una scuola superiore romana illegale della famiglia. ora potrà pagare il risarcimento. E poi cronache nazionali. Cagliari, professore a luci rossa, sentenza shock, sesso in cambio di bevoti, dieci anni di carcere e mai più cattedre. E poi a Napoli, spaccio a colpi di Kalashnikov, si moltiplicano le sparatorie per il controllo del territorio. Roma, mafia capitale, no al patteggiamento per Buzzi. La procura di Roma respinge la seconda istanza del RAS delle coppe, come abbiamo visto dal messaggero Carminati. Sarebbe pronto a parlare? Siamo alle pagine, almeno vediamo la prima, prima di ascoltare Giovanni De Palma per il meteo. La prima pagina che riguarda l'Abruzzo. La montagna cresce ma ha bisogno di idee e investimenti. Il capo del Consorzio Gran Sasso, l'Aquila, Terre Vestine, presenze, salite del 20-30% col distretto si cambia passo. E poi al castello Piccolomini di Capestrano in provincia dell'Aquila, a Tori in scena per promuovere il territorio e dunque un'iniziativa per propagandare la nostra regione. Allora, sono le 7 e quasi 21 minuti. Possiamo, come sempre, aprire la consueta pagina del meteo. Lo facciamo con il nostro meteorologo Giovanni De Palma. Giovanni, buongiorno. Buongiorno Paolo, buongiorno a te e a tutti dei telespettatori. Allora, Giovanni, siamo quasi, anzi, siamo nella prima decade di settembre, sta per iniziare la seconda, dire la verità, le temperature si sono abbassate come ci avevi ampiamente annunciato nei giorni scorsi. La mattina fa piuttosto freddo, almeno la mattina presto, questa mattina per esempio a Pescara intorno alle 6 c'erano 13 gradi o qualcosa in più. Vediamo di sapere da te cosa ci attende per i prossimi giorni sia a livello proprio di previsioni del tempo ma anche di temperature. Sì Paolo, hai citato le temperature, effettivamente sono sensibilmente diminuite rispetto ai giorni scorsi e se da un lato sul settore orientale lungo la fascia costiera siamo intorno ai 13-15 gradi centigradi, sul settore occidentale nell'Aquilano i valori sono decisamente più bassi sugli 8 gradi nel nostro capoluogo ma anche intorno allo zero dalle parti di Roccaraso quindi una situazione questa che abbiamo annunciato ma che ovviamente cambierà perché nei prossimi giorni è previsto un nuovo graduale aumento delle temperature ma la situazione meteorologica attuale è caratterizzata dalla presenza di una vasta circolazione repressionale che in queste ultime ore stanno intensi episodi di maltempo sulle nostre isole maggiori e nelle prossime ore interesserà gran parte delle regioni meridionali però questa estesa nuvolosità inizierà ad interessare a raggiungere anche le restanti regioni centrali quindi nelle prossime ore è previsto un graduale aumento della nuvolosità l'azione della depressione la presenza di questa circolazione depressionaria favorirà anche un richiamo di masse d'aria fresca dai quadranti nord-orientali di conseguenza sono previsti saranno possibili ancora degli annuvolamenti al mattino lungo la fascia costiera quindi sul settore orientale ma nel corso della giornata non si scudono anche delle precipitazioni che io però ritengo più probabili durante le ore centrali della giornata nel corso del pomeriggio sulle zone montuose sulle zone montuose che si affacciano sul vestante patriatico ma anche sul settore occidentale perché insomma questa circolazione depressionaria comunque marginalmente interesserà anche la nostra regione e il vicino Molise non cambierà di molto la situazione in nottata e nella prima parte della giornata di giovedì successivamente attiveremo un graduale miglioramento del tempo con delle scherite sempre più ampie anche se nella giornata di venerdì saranno possibili degli annuvolamenti pomeridiani a ridosso dei biglievi con possibilità di occasionali fenomeni poi in estensione verso il settore orientale ma in attenuazione in serata e in nottata successivamente Paolo alla luce dei dati attuali a nostra disposizione sembra altamente probabile un deciso miglioramento del tempo perché se da un lato si avvicina un'intensa perturbazione sulla Francia sulla penisola iberica sulla nostra penisola invece è probabile la rimonta temporanea di un promontore di alta pressione di matrice nord africano è quello che come dicevo poc'anzi favorirà il progressivo aumento delle temperature ma probabilmente sarà un episodio temporaneo perché poi questa perturbazione demolirà l'alta pressione quindi raggiungerà le regioni centrali e con tutta probabilità favorirà anche un peggioramento sulla nostra regione nei primi giorni della prossima settimana ma di queste e di altre situazioni poi ne riparleremo diffusamente nei prossimi aggiornamenti Paolo grazie grazie Giovanni De Palma dunque tempo capriccioso ma ci sarà un aumento delle temperature per il fine settimana io ringrazio Giovanni De Palma grazie Giovanni buona giornata buon lavoro appuntamento a domani sempre nel corso di mattino 6 grazie Paolo una buona giornata anche a te e a tutti i telespettatori di TV6 ringraziamo Giovanni De Palma per queste previsioni come sempre puntuali per la nostra regione abruzzometeo.org il sito dove potete conoscere in tempo reale proprio le previsioni del tempo e poi la pagina Facebook del nostro meteorologo anche in questo caso un valido ed utile strumento anche per interloquire per interfacciarsi proprio con il nostro Giovanni De Palma per conoscere davvero tutto sulle previsioni del tempo prima di fermarci per qualche istante possiamo tornare a vedere le pagine della cronaca regionale del centro siamo alla seconda pagina si parla dei test di ammissione alle facoltà di medicina in questo caso in Abruzzo nella nostra regione in 1221 all'Università d'Annunzio a Chieti per 225 posti i commenti le speranze e le storie degli studenti Quizza Strusi ha detto qualcuno e all'Aquila volti scuri pochi cento minuti noi proprio sui test di ingresso alla facoltà di medicina dell'Università d'Annunzio di Chieti Pescara ieri abbiamo ascoltato proprio nella sede dell'Università d'Annunzio il preside della facoltà di medicina dell'Ateneo Teatino giornata giornata di test per la missione alla facoltà di medicina dell'Università d'Annunzio di Chieti Pescara alla prova della durata di cento minuti hanno partecipato questa mattina 1221 studenti provenienti anche da fuori regione tensione paura e speranze per i futuri medici che hanno dovuto rispondere a 60 test attitudinali 190 i posti disponibili a medicina e chirurgia 35 a odontoiatria oggi è una giornata particolare perché ci sono questi test di ammissione alla vostra facoltà come stanno andando le cose? Le cose stanno andando bene anche meglio del previsto vista la complessità che il ministero ha creato per tutelare l'anonimato del candidato quindi stiamo raccogliendo i dati proprio in questi minuti quindi abbiamo soltanto una serie di informazioni che in particolare ci dicono al momento i presenti rispetto all'anno scorso ci fanno fare un breve calcolo di quale sia stata la differenza fra l'anno scorso e quest'anno e la differenza è ahimè una riduzione diciamo così del numero dei candidati per motivi diversi di cui si potrebbe come dire disquisire per più di qualche secondo in cosa consiste il test di questa mattina che stanno sostenendo questi ragazzi? Consiste in una serie di quiz 60 quiz con risposta multipla e lo studente affronta questi quiz per i quali prende un punto e mezzo per la risposta esatta meno 0,4 per la risposta sbagliata e 0 punti per la risposta non data questo per tenere un po' così sotto controllo l'uso del caso del mettere la croce diciamo a caso nel tentativo di azzeccare la domanda le griglie vanno al Cineca il Cineca le corregge le pubblica e a quel punto ogni candidato potrà verificare entrando nel sito Universitaly nel suo sito proprio d'accesso potrà verificare il proprio risultato questo è il servizio realizzato ieri proprio all'Università d'Annunzio per parlare di questi test noi ci fermiamo per qualche istante poi torneremo in studio per la seconda parte di Mattino 6 seconda parte di Mattino 6 siamo ancora sulle pagine regionali del centro politica regionale in questo caso D'Alfonso Sira Forza a destra Micucci Area Forza Italia da Presidente a segretario generale della Fira nel segno della continuità e ci sono ci sarebbero anche altre manovre di assestamento da destra per così dire verso sinistra e poi la polemica Mattoscio il presidente della Saga società di gestione dell'aeroporto d'Abruzzo di Pescara Addie Stefano deputato di Forza Italia dice Mattoscio il tuo attacco è personale andiamo ancora avanti siamo però ancora alla pagina di cronaca regionale dal centro fermi tirocini per gli svantaggiati dovevano partire ad agosto con il bando Abruzzo inclusivo ma la burocrazia c'è stata questa conferenza stampa del consigliere Leonardo Bracco proprio per parlare di questo argomento e poi concorso farmacie chi l'ha visto dopo due anni e mezzo altrove pubblicano le graduatorie mentre in Abruzzo è tutto fermo e poi inventori di Francavilla foto e ambiente nasce in Abruzzo il primo eco rullino allora prima di passare alle pagine provinciali del centro torniamo sul messaggero per andare a vedere in questo caso anche qui le pagine della cronaca d'Abruzzo del quotidiano romano proprio nel suo inserto regionale vediamo la prima pagina del messaggero cronaca d'Abruzzo mare sporco un altro giallo Pescara valori fuori legge anche a giugno il forum gli Iron Man nuotarono in acque inquinate il vice sindaco del vecchio dice i divieti furono segnalati e l'emergenza era cessata per l'evento e poi chieti 1200 e test per la d'annuncia abbiamo appena visto il servizio caporalato nella marsica il ministero ecco i rinforzi e poi sciopero flash alla densa turni meno massacranti lasciamo la prima pagina di cronaca regionale siamo alla seconda il Barlzer della giunta parte l'ultimo giro ma la quadra non c'è oggi riunione dopo il nuovo ma vago documento firmato dai dissidenti Selle non rinuncia all'assessorato mentre Gerosolimo attende le deleghe e vedete nella foto il presidente della regione D'Alfonso e il consigliere Gerosolimo neoassessore che attende però proprio di sapere quali saranno le deleghe e poi la tua si parla di trasporti regionali più 10% sui biglietti contratti accordo vicino per il secondo livello e poi ritroviamo il titolo della prima pagina emergenza caporalato nella marsica ecco i rinforzi il ministero risponde all'interrogazione di Melilla il deputato di sinistra ecologia libertà ci sono evidenti anomalie più ispettori da Roma e da Frosinone allora possiamo tornare al centro per andare a leggere le prime pagine di cronaca provinciale partiamo da Pescara i 2000 conigli morti da 8 mesi personale della ASR carabinieri del Nasse forestale controllano i capannoni presi in affitto da una ditta romagnola e poi codici il sindaco sapeva problema a lungo ignorato quanto riguarda l'aeroporto di Abruzzo di Pescara slitta il volo da Tirana passeggeri infuriati guasto all'aereo dell'Air Valley 40 viaggiatori arrivati a Pescara con un giorno di ritardo pagina 2 della cronaca di Pescara l'inchiesta muore in ospedale tre medici indagati l'accusa ignorate le analisi di una donna che peggiorava il reparto di medicina lasciato senza dottori per un pomeriggio museo il comune affida la pratica illegale all'esame la diffida della fondazione Genti d'Abruzzo l'assessore Marcheggiani dice non possiamo pagare quanto richiesto e poi a Pescara torna la festa dell'unità da venerdì a domenica dibattiti e concerti all'ex FEA cade un tombino il traffico deviato su via Pandolfi e poi la replica del comune su piazza Salotto nuovo al mercato proposto da Confcommercio siamo ancora la cronaca di Pescara Cristofanelli si difende per un'ora tortuga fallito ma senza debiti il commercialista di Mattucci è l'unico a rispondere mi hanno tirato in ballo ingiustamente era un'operazione lecita da 2 milioni di euro io scagionato da intercettazioni e atti del tribunale e poi la cronaca ai colli anziana esce di casa e sparisce per 4 ore è stata ritrovata via 6 volte dai domiciliari arrestato un 39enne di Pescara e poi rubano stufe per 7 mila euro inseguiti e arrestati il furto scoperto in provincia di Pescara andiamo ancora avanti l'algoritmo gli dà una cattedra a Padova ma il professore non va sospiro di sollievo per un giovane insegnante di Pescara per la cattedra avrebbe dovuto lasciare la figlia di 6 mesi e poi cosa dice la legge c'è l'intervista al sindacalista Davide Desiati che dice la partenza si può rimandare poi la cultura oggi in città la nipote di D'Annunzio la figlia di Cicciuzza presenterà il libro di Ditizio nella casa natale del Vate appuntamento alle 18 a casa D'Annunzio pagina 19 la pista ciclabile sul fiume invasa da un mare di rifiuti l'opera realizzata dalla Fater è costata 250 mila euro in totale abbandono ignorata la denuncia di 5 mesi fa ora scoppia la protesta dei cittadini e poi Antonelli di Forza Italia consigliere comunale che dice di notte i parchi restano aperti e poi il Pescara era già inquinato 28 anni fa l'ex assessore Sorgentone dice in tutto questo tempo non è stato fatto nulla per migliorare il fiume andiamo avanti siamo la cronaca ancora la cronaca di Pescara Canoni alle stelle società del basket in rivolta protestano i quattro sodalizi della pallacanestro cittadina per le tariffe e poi in pista anche i ragazzi dell'atletica lunedì ripartono i corsi multidisciplinari per l'avviamento all'agonismo e siamo alla pagina di Montesilvano emergenza la paura dell'alluvione subito una bonifica sotto il ponte del torrente Piomba e a città Sant'Angelo parla il sindaco Gabriele Florindi che dice i soldi per intervenire ci sono ma la burocrazia frena tutto ancora avanti cronaca di Pescara area metropolitana e provincia siamo a Montesilvano ragazza scippata preso il secondo rapinatore i carabinieri della locale compagnia arrestano a Napoli un 22enne che avrebbe aggredito la giovane con un complice già in carcere per strapparle catenina smartphone a spoltore la scuola di resta riapre il 21 finiti i lavori antisismici e poi a Montesilvano di scariche abusive interviene il comune siamo alla cronaca di Francavilla il CEA di Buendia la bandiera blu non fa il mare pulito il centro di educazione ambientale chiede alla regione un ruolo più incisivo in tema di inquinamento Cepagatti comune WWF dicono stop al deposito dei rifiuti e a Cepagatti il consigliere sborgia dice segnaletica da rifare per il centro ortofrutticolo e a Francavilla nuovo parroco nella chiesa di Sant'Alfonso tornerà padre Antonio e siamo alla pagina di penne popoli della Val Pescara offerta di lavori utili per chi non può pagare tasse e tributi popoli l'amministrazione del sindaco Galli pronta a varare il baratto amministrativo per aiutare i meno abbienti e a tocco da Casauri a raduno spirituale per i settantenni a Castiglione a Casauri a nonna Mafalda festeggia i cento anni gran festa per questa signora Mafalda Casmirri e poi Galleria del Gusto all'ex tribunale penne inaugurato il secondo polo espositivo permanente del pescarese alla presenza anche del presidente della provincia che vedete nella foto presidente della provincia di Pescara Antonio Di Marco e siamo alla pagina di Chieti i preti sia all'accoglienza ma gli spazi sono pochi i parroci raccolgono l'appello di Papa Francesco ad aprire le porte i profughi riunioni in corso nelle diocesi e nelle parrocchie in cerca di locali adeguati e poi i centri di ospitalità Caner siamo pronti a collaborare il responsabile di Matrix dice giusta risposta ai bisogni di chi chiede aiuto e siamo alla pagina dell'Aquila aeroporto appena 7.000 passeggeri in un anno ma il sindaco Cialente è ottimista il risultato è apprezzabile lo scalo è aperto e funziona il comune istituisce una commissione di vigilanza sull'attività del gestore express e poi propersi vetture autoguidate per Roma il consigliere comunale di domani l'Aquila presenta 10 proposte progettuali per rilanciare la città proseguiamo seconda pagina dell'Aquila cronaca in questo caso coltivano droga nel bosco due arresti a San Vincenzo Valle Roveto e a Pescina rissa per una donna scattano quattro denunce protesti ad Avezzano uffici dell'ATC chiusi i cacciatori si infuriano siamo alla pagina di Teramo del quotidiano il centro dall'olio di oliva il farmaco contro il cancro al colon ritroviamo questa notizia che avevamo visto anche nella prima pagina dopo la scoperta che è in grado di aumentare un gene onco soppressore ora i cercatori di biotecnologie puntano a creare derivati ad uso terapeutico e poi l'abbattimento i cacciatori ok al piano della provincia per i cinghiali e poi il caso ricorderete questa tragedia della ragazza dilaniata il caso approda alla trasmissione chi l'ha visto di Rai 3 prima di passare allo sport siamo alle pagine provinciali del messaggero e poi andremo a vedere anche le pagine del quotidiano la città siamo alla pagina le pagine dell'aquila del messaggero stadio di acqua santa sia al progetto telecamere via libera dell'aggiunta allo stanziamento di 400 mila euro per la videosorveglianza si va verso la doppia intitolazione Italo-Aconcia Gran Sasso d'Italia poi il turismo incremento delle presenze degli stranieri in città e poi Sant'Endriu ristrutturazione contestata c'è l'intervento anche della Corte dei Conti Campotosto l'accusa chiede la conferma del sequestro dei beni di sindaco e tecnico e poi Abruzzo Engineering ok ai contratti ma il movimento 5 stelle è critico seconda pagina della cronaca dell'aquila il successo del jazz divide l'Abruzzo e scontro sul festival Masci insiste finanziare quello di Pescara il più antico l'indignazione esplode in rete messaggi contro l'ex assessore e poi auto demolitore abusivo sessantenne ai domiciliari e poi incidente stradale finisce contro un albero e grave e al Torrione adozione al minimo situazione bloccata e la colonna si è ridotta da 15 a 5 metri di altezza e poi il comune Properzi parla di un progetto per rilanciare la città andiamo a vedere il servizio realizzato dai nostri colleghi della redazione Aquilana resto l'opposizione non farò come scritto sui giornali da stampella alla maggioranza di centro-sinistra ma rivendico l'autonomia nella minoranza da convinto libera al socialista con 10 idee progettuali da proporre e da realizzare per il bene della città questo è il Pierluigi Properzi Pensiero consigliere di domani l'Aquila già candidato sindaco senza molto successo in una coalizione in cui c'era anche Forza Italia Properzi che si definisce architetto urbanista prestato alla politica si dice poco appassionato ai posizionamenti pre-elettorali come quelli dei tre consiglieri che hanno costituito il gruppo Noi con Salvini e in conferenza stampa si presenta affiancato da Daniele Toto coordinatore nazionale del Partito Liberale Italiano e Mauro Chilante il coordinatore regionale e nell'esporre la sua posizione una porta al sindaco Massimo Cialente la lascia aperta squadrano infatti le sue proposte progettuali il decalogo libera al socialista che va dall'infrastruttura di cui dotare l'Aquila a baricentro della macro-regione mediana all'istituzione di un autoriti europeo per l'ambiente passando per l'istituzione di una scuola di formazione per la pubblica amministrazione la sperimentazione della guida autonoma sul modello della Google Car sull'autostrada 24 su questo lascia intendere Propersi massimo spirito di collaborazione e guai a chiamarlo inciucio manca ancora un progetto di città che andava proposto nel 2012 quando si è cominciato a ragionare sul nuovo piano regolatore e le scelte della ricostruzione non erano ancora state fatte il sindaco ha però detto in occasione del Consiglio Comunale sul bilancio di voler raccogliere contributi esterni nell'ultima fase della legislatura e questa è una novità che accolgo con favore conclude Propersi siamo alle pagine del messaggero di Avezzano Sulmona il vescovo aprire le case ai migranti la decisione di ospitare i profughi è arrivata l'altra sera al termine di una riunione con tutti i parroci della diocesi Monsignor Spina ha chiesto di reperire strutture abitative consapevole che l'ospitalità non si limiterà a qualche mese a Sulmona il concorso Caniglia il canto del Cigno in cassa ci sono 15 mila euro per la manifestazione Masci e Dibacco dicono non possiamo permetterci di rischiare ambulanza contro un'auto ferite sette persone a Castel di Sangro e ad Avezzano protezione civile ecco dove rifugiarsi sempre ad Avezzano sull'isola pedonale troppi ritardi siamo alle pagine di Pescara del messaggero Iron Man il giallo del mare vietato De Sancti si ipotizza una violazione di norme inquinamento oltre i limiti da maggio a giugno inoltrato ma nessun cartello dice l'esponente del forum dell'acqua e poi piscina provinciale lavori finiti testa sollecita l'apertura di Marco attuale presidente dell'ente e poi una sperimentazione in città Movida sana in via Battisti gli esercenti danno l'esempio e poi piazza Salotto si divide invece sul mercato infine per quanto concerne questa pagina festa dell'unità che sbarca l'ex fea di Pescara il PD a confronto con la città pagina 2 il crack del tortuga nessun passivo e creditori pagati il commercialista Antonio Cristofanelli respinge le accuse sulla bancarotta paga un prezzo alto sul piano umano e poi in asse forestale indagano sulle carcasse dei conigli a Colle Corvino a congiunti di Colle Corvino per essere più precisi e poi i giochi esperienza unica bilancio della prima edizione dei giochi del Mediterraneo sulla spiaggia grande entusiasmo dei 300 volontari della misericordia e poi Giardiniere cade dalla scala e grave incidente accanuto in una casa di riposo in via Marinelli a Montesilvano e poi volo bloccato a Tirana l'odissea dei pescaresi abbiamo visto anche questa notizia delle pagine del centro siamo la terza pagina di cronaca di Pescara dal mito alla scala l'anno d'oro di Carmela l'Aremigio celebre soprano pescaresi aperto a Milano una lunga stagione che si concluderà nel tempio della lirica e poi il vernissaggio conditizio libro su D'Annunzio e la figlia Renata questo pomeriggio proprio a casa D'Annunzio e statica chiusura col botto Fedez sul palco del Marina di Pescara e poi ambiente a Cepagatti sindaco e WWF contro il deposito di rifiuti speciali proseguiamo pagina di Chieti del messaggero in 1200 e test di medicina ma ho pronto il piano B abbiamo ascoltato il preside proprio della facoltà e poi il caso di Coiba su Canale 5 ora temo ritorsioni dal racconto dell'aggressione all'incubo tante chiamate anonime vogliono che ritiri la denuncia e poi ad Orsonia la piantagione di canapa nascosta nel bosco il sequestro operato dai carabinieri e a San Giovanni Teatino il sindaco Marinucci annuncia entro fine anno 14 telecamere per il comune siamo alla pagina di Lanciano Vastortona garage trasformati in case una piaga la marina sembra terra di nessuno ma ora arriva il giro di vite contro l'abusivismo con i controlli intensificati dei vigili urbani il fenomeno della prostituzione nei tanti appartamenti che diventano il centro di via vai continui di clienti e poi a Lanciano il dono la sfilata aperta dal carro di No Ombrina a Lanciano un microspia scuola nessuna accusa per la maestra vasto nuovo commissario al consorzio di bonifica ad Ortona campo di basket sotto la centrale è polemica proseguiamo pagina di Teramo del quotidiano il messaggero con il primo festival la città si propone capitale della follia il comune sposa un'idea di veneziani as e università che saranno partner parteciperanno ospiti di eccezione come Paolo Crepe Vittorio Sgarbi Pupiavati Paolo Nori e poi il vescovo anche noi accoglieremo i profughi l'arcivescovo il vescovo di Teramo Atrimo il signor Seccia rilancia il monito del santo padre e poi municipio pianta organica ridotta di oltre 100 unità spending review anche a Teramo e a Nereto spaccia una dose di cocaina denunciato un 31enne siamo a Giulianova scoppia la polemica sulla nuova caserma il cittadino governante parla di piazza militarizzata e chiede di spostare la costruzione all'annunziata e poi il sindaco Mastro Mauro che replica è l'unica soluzione possibile è l'unica approvata dall'arma dei carabinieri sempre a Giulianova la differenziata è ok il Coba ricorre al Tarra Martinsicuro contestato il bilancio con 3 milioni di disavanzo a Roseto la scuola di via Veronese lunedì riapre regolarmente ad Alba Adriatica domenica si torna a giocare allo stadio cronaca ancora da Giulianova forzano la barriera autostradale arrestati a Notaresco seconda edizione dell'Abruzzo Irish Festival e siamo alle pagine dello sport ma prima di parlare appunto di sport dobbiamo andare a vedere insieme le pagine invece le notizie sul quotidiano la città di Teramo prima pagina del quotidiano la città la vedremo tra qualche istante escluso ogni dubbio fu con Bin si parla in questo caso del caso Savona Teramo pubblicate le motivazioni dei giudici d'appello provata la responsabilità di Campitelli e di Giuseppe e poi la città dei Matti presentata la prima edizione del festival della follia e ad Atri punto nascita oggi la sentenza del Tar il sindaco e il comitato si dicono ottimisti sul ricorso andiamo avanti per vedere le pagine interne del quotidiano la città rimpasto in giunta la situazione si complica se le dice no alla proposta del PD di nominare Mario Mazzocca sottosegretario con delega l'ambiente e poi sequestro del Tortuga in quattro fanno scena muta davanti al giudice trasporti lunedì nero per i viaggiatori cancellati voli Pescara Tirana e siamo alla partita Savona Teramo pubblicate rese note le motivazioni che escludono ogni dubbio c'è stata Combin e poi il giudice si parla ancora di questa vicenda Giuseppe Daniello nuovo amministratore delegato del Teramo Calcio manca solo la firma il giovane dirigente napoletano ex Varese sponsorizzato dal fratello Biaggio dipendente di Campitelli ed ex direttore generale del Chieti dunque in questo caso si parla di calcio giocato con la nomina ancora da ufficializzare perché manca la firma del nuovo amministratore delegato della Teramo Calcio ieri tra l'altro la società Bianco-Rossa lo vedremo poi nelle pagine dello sport ha annunciato diversi nuovi e ufficializzato diversi nuovi arrivi ancora avanti vedete si parla sempre della vicenda di Savona Teramo proseguendo pagina 6 Boscaiolo ucciso tre richieste di rinvio a giudizio per l'incidente in galleria a Piaganini nei guai anche due tecnici Anas e l'autista del bus centrato dalla vittima proseguiamo disabili e sciopero Team sull'agenda Brucchi sindaco di Teramo Teramo solidale e autismo Abruzzo chiedono il ritiro della delibera il sindaco incontrerà anche i sindacati proseguiamo siamo a pagina 9 Teramo sarà tutta una rotatoria via i semafori a metà settembre pronto l'appalto per il rondò del promenade e poi si parla di enti pubblici in questo articolo di spalla la Will chiede all'istituto zoo profilattico di assumere gli otto assistenti veterinari e poi pensionamenti vedete a fondo pagina il comune risparmierà un milione sugli stipendi tagliati 112 posti di lavoro in pensione anche il dirigente tecnico di Timoteo proseguiamo pagina 10 Val Vibrata l'esempio Gran Sasso all'Expo il maglificio di Sant'Egidio la Vibrata al padiglione in Tessa San Paolo e poi la cronaca nereto albanese fermato dai carabinieri con la cocaina senza patente a Tortoreto rubano delle stufe a pellet e forzano il casello arrestati dai carabinieri e sempre a Tortoreto sicurezza farone industrie fa formazione gratuita proseguiamo pagina 11 pagina di Giulianova e Mosciano Giulianova rintracciati 21 minori sui treni la porferri di Giulianova fa il bilancio dell'attività estiva sulla linea adriatica e poi Caserma nuova Caserma Arboretti contesta la scelta del comune e dei carabinieri il cittadino governante contrario alla militarizzazione di piazza della chiesa il sindaco risponde critiche assurde è sempre Giulianova cittadinanza attiva la consulta arriverà anche in consiglio proseguiamo pagina di Roseto Pineto a 3 Silvi tutta atri con il fiato sospeso il tar decide oggi sul punto nascita sindaco e comitato ottimisti sul pronunciamento previsto come detto in giornata e a Silvi una giornata tutta dedicata al tema della disabilità al circolo nautico proseguiamo ancora Silvi parla il sindaco Silvi ha intercettato la ripresa del turismo nessun trionfalismo per il sindaco Comignani ma la consapevolezza che qualcosa è cambiato rispetto a Vallescura vedete nella foto il sindaco Francesco Comignani in questa intervista in cui parla della ripresa del turismo nella cittadina rivierasca Roseto lunedì si torna in classe alla scuola di via Veronese e poi a Pineto ruba 100 euro di attrezzi al mercatone 1 51enne in manette siamo infine alla pagina della cultura equilibri squilibri e altre visioni l'armonia perduta degli uomini nella collettiva di atri nelle cisterne romane la mostra che guarda l'instabilità contemporanea e siamo scusate dobbiamo andare a vedere se abbiamo ancora tempo sì le pagine di sport partendo proprio dal quotidiano la città ancora un attimo ecco qui la pagina di sport che si apre con il basket perché del teramo si è parlato nelle prime pagine Sharks dopo il pescare arriva vasto il Roseto sta raccogliendo buoni risultati nella fase di precampionato e poi Martinsicuro campionati italiani di pattinaggio rolling sugli allori con quattro moschettieri palla a mano trofeo Certec le assenze pesano sulla squadra della mana di La Brecciosa allora possiamo andare a vedere le pagine dello sport del centro e del messaggero visto che siamo quasi in chiusura del nostro appuntamento con Mattino 6 del 9 settembre parliamo di calcio del Pescara venerdì il Perugia nell'anticipo all'Adriatico parla il doppio ex Camplone che dice Pescara non sei da podio l'allenatore pescarese fa le carte a Delfino l'anno scorso la squadra era più forte ora in attacco c'è poca scelta vedete l'intervista di Camplone esposito rescinde scoppia il caos in società la punta dice ringrazio solo ripeto e il direttore generale sbotta l'avrei tenuto non c'è meritocrazia Vukusic fuori rosa e dunque c'è anche qualche problema all'interno della società soprattutto per quanto riguarda queste decisioni e poi calcio a 5 il Pescara scalda i motori sabato la Supercoppa contro l'Asti e siamo a Lanciano D'Aversa gela la tifoseria abbiamo visto questo titolo anche nella prima pagina dell'edizione di Chieti Lanciano Vasto del centro giocheremo a Bari il tecnico annuncia che la Virtus disputerà la gara con i marchigiani a San Nicola oggi è attesa la risposta della Figi Ciperil Via Libera al Biondi fiato sospeso in città e poi intanto la squadra si prepara per la gara con Lascoli contro i bianconeri rientrerà piccolo ancora K.O. Marilungo e poi si parla di Serie D del Chieti colpo in attacco ecco Caraccio l'ex potenza un passo dalla firma il club smentisce il ritorno di Esposito che abbiamo visto a Rescisso con il Pescara siamo alla pagina della Lega Pro nelle parole di Barghigiani la condanna del Teramo la Corte d'Appello Federale ha dato credito agli incontri prima e dopo Savona testimoniati dall'ex consulente dei Liguri smontando così le indagini difensive sono state pubblicate le motivazioni proprio delle sentenze che hanno riguardato il Teramo e Daniello nuovo amministratore delegato con potere di firma il fratello Biaggio ex Chieti lavora già con il patron della società Bianco-Rossa Campitelli ed ecco un'altra pagina dedicata al calcio di Nicola ho sbagliato ma l'ho fatto in buona fede parla l'ex DS dell'Aquila e poi Eurobasket si parla però di sport nazionale con l'Italia che batte per 105 a 98 la Spagna chiudiamo con le pagine dello sport del messaggero Perugia emozioni forti Camplone e Di Cara fanno le carte all'anticipo di venerdì all'Adriatico D'Aversa spinge la Virtus a Bari conta a lavorare ancora niente deroga dalla Lega per il Biondi e poi esposito ai saluti siamo all'articolo che riguarda il Pescara ripeto bisognava crederci dunque polemica in società si parla ancora di calcio nella seconda pagina del messaggero nel furto a Campitelli il prezzo della Combine le motivazioni della Corte Federale Teramo retrocesso sono in Lega Pro perché prescindendo dall'ultimo me c'era quasi sicuro della B e poi l'Aquila di Nicola la chiave vincente delle dimissioni e poi San Nicolò il terreno di casa resta un rebus ancora non è stato ancora ufficializzato il campo di gioco della formazione allenata da mister Epifani poi il chieti tratta il bomber italo-argentino Caraccio siamo alla serie D sempre serie D Giulianova la grana stipendi carrozzieri promette la punta e poi basket Proger test contro Campli Sharks vasto arriva Waiwer e siamo giunti al termine proprio con questa notizia che riguarda la palla canestro dell'appuntamento odierno con Mattino 6 grazie come sempre per averci seguito il prossimo appuntamento informativo della giornata è come sempre previsto per le ore 14 con la prima edizione del TG6 grazie per averci seguito e buona giornata grazie per averci seguito grazie per averci seguito